perché mi pare che il giocatore del Livorno sia addirittura svenuto, infatti è così, immagine terribile brutta immagine, brutta da vedere immagine terribile, guardate il giocatore del Pescara forse di Signe che se ne stava andando via qua c'è paura incredibile purtroppo è già capitato altre volte nel mondo del calcio di assistere a qualche situazione del genere adesso forse è stato il movimento delle gambe che ci fa ben sperare ha preso una botta in testa forse si si sta muovendo adesso, si sta anche respirando adesso spero di sollievo anche per noi perché raccontare comunque questi episodi in diretta insomma, potete chiaramente capire come può mettere in difficoltà chiunque situazione ancora molto delicata, difficilissima anche da poter decifrare da queste immagini certo adesso stanno andando... guardate Schiattarella, le lacrime di Schiattarella eh, c'ha paura, hanno paura, abbiamo paura noi di qua figuriamoci dal campo brutto colpo, brutto infortunio speriamo che vada tutto grazie a tutti